Ciao, oggi voglio mostrarti 10 scorciatoie da tastiera per Photoshop, molto semplici, veloci, ma soprattutto utili. Partiamo subito con la prima. Crea un nuovo livello. I comandi sono Ctrl-Shift-N per Windows o Command-Shift-N per Mac. E si aprirà questa mascherina che ci permette di creare un nuovo livello. Da qui possiamo decidere naturalmente il nome, possiamo decidere il colore, quindi l'etichetta da associare al livello all'interno della palette livelli e il metodo. Quindi per esempio possiamo decidere un livello sovrapposto riempito con il colore neutro, in modo da poterlo usare per esempio per dei ritocchi che agiscono con il metodo sovrapponi, come per esempio accentuare le caratteristiche di contrasto. Ed eccolo qua il nostro livello. Possiamo duplicare un livello, molto semplicemente, un livello già esistente, qui. Quindi andiamo a sbloccare il livello 0, da tastiera per Windows, Ctrl-J, e quindi da Mac, Command-J. Se vogliamo invece riempire questo livello con uno dei due colori selezionati, o il primario o il secondario, allora esistono due combinazioni di scorciatoie che si possono riassumere in questo modo. Se vogliamo riempire il livello con il colore secondario, allora utilizzeremo la seguente combinazione. Ctrl-Backspace per Mac e Ctrl-Canch per Windows. E come vedete ho riempito il livello con il colore secondario. Ctrl-Z e torno indietro. Se invece voglio riempire il livello con il colore primario, allora utilizzerò la combinazione Alt-Canch per Windows, Alt-Backspace per Mac. Andiamo a duplicare questo livello e scopriamo come poter unire i livelli visibili con una scorciatoia da tastiera. Molto semplicemente possiamo unire questi due livelli visibili, visibili perché sono entrambi con l'occhietto visibile, semplicemente, Ctrl-Shift-E. Come vedete ho unito i due livelli visibili in un unico livello. Quindi da tastiera per Windows, Ctrl-Shift-E. Command-Shift-E per Mac. Se invece voglio unire i livelli visibili e crearne uno superiore, lasciando però comunque esistenti i livelli visibili, allora da tastiera per Windows, per comodità selezione entrambi, Ctrl-Alt-Shift-E. Per Mac sarà Command-Alt-Shift-E. Shift è il pulsante nella tastiera solitamente posto al di sotto del pulsante invio. Immaginiamo di voler trasportare quindi un livello al di sopra di tutti gli altri, possiamo farlo sì manualmente con il tasto sinistro del mouse, ma possiamo farlo anche con una scorciatoia da tastiera. La combinazione per Windows è Ctrl-Shift-E più parentesi quadra di chiusura. La trovate di solito vicino al segno più o asterisco. Vedete? Il livello 0 copia è salito sopra. Naturalmente da Mac è Command-Shift più parentesi quadra di chiusura. Come poter selezionare l'intera immagine? Assicuriamoci che ci sia un livello selezionato, dopodiché Ctrl-A o Command-A. E abbiamo selezionato l'intera immagine. Per deselezionare la selezione appena fatta, Ctrl-D o Command-D. Un'altra combinazione interessante è selezionare un colore presente all'interno dell'immagine. Allora assicuriamoci di tenere premuto il tasto del pennello, quindi di selezionare lo strumento pennello. Dopodiché, io mi sto avvicinando con lo zoom semplicemente ruotando lo scroll del mouse in avanti e tenendo premuto il tasto Alt. Come vedete, col tasto Alt compare lo strumento contagocce che mi permette di prelevare un campione di colore. Adesso col tasto sinistro del mouse lo vado a selezionare e come vedete compare qui come colore primario. Quindi, tasto Alt più sinistro del mouse, ricordandosi di tenere selezionato il pulsante del pennello, lo strumento pennello. Per me che è OPT più clic sinistro del mouse. Infine, come possiamo riempire un livello? Semplicemente Shift più F5 e ci esce questa finestra del riempi. Noi possiamo naturalmente scegliere se riempire l'intera immagine, quindi l'intera tavola di lavoro, con un colore, un colore di sfondo, un colore di primo piano e viene preso in automatico questo presente nella palette strumenti, un pattern oppure altre soluzioni come per esempio una storia che contiene praticamente tutte le operazioni fatte sinora, un nero, un grigio al 50% e un bianco. Immaginiamo di voler riempire le immagini con un colore. Si apre naturalmente il selettore colore dove noi possiamo scegliere il colore a nostro piacimento. Premere OK e di nuovo OK. Ed ecco riempito con un colore. La combinazione è Shift più F5 sia per Windows che per Mac. Bene, sono dieci scorciatoie, ma in realtà ti voglio lasciare con un altro paio molto veloci. Immagina che tu voglia salvare tutto questo, semplicemente CTRL-SHIFT-S oppure se volessi salvarle per il web, CTRL-ALT-SHIFT-S per Windows, per Mac, CMD-ALT-SHIFT-S se volessi salvare per il web e CMD-SHIFT-S se volessi salvare semplicemente normalmente il file. Immaginiamo di voler riaprire un nuovo file direttamente alla tastiera CTRL-N o CMD-N che tu lo faccia da Windows o da Mac. E come vedete si apre la finestra con tutti i parametri per poter definire il file di lavorazione. Bene, per oggi abbiamo finito. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!